Le interviste impossibili Oreste del Buono incontra il cavalier Leopold von Sacher Masoch Voler conoscere un po' meglio, un po' sul serio, il cavaliere Leopold von Sacher Masoch non è una semplice curiosità. Masoch a suo tempo fu celebre come un secondo Goethe. Attualmente viene ricordato soltanto nei trattati di psicopatia sessuale. Volerlo conoscere un pochino più a fondo è quasi un dovere. Sta seduto davanti a noi, è vestito in modo sciatto, ha la faccia patita, le tempie grigie, i baffi mal curati, gli angoli della bocca cadenti. Sulle ginocchia ha un bel gatto d'angora che continua a carezzare. Può dirci, cavalier Masoch, perché e come lei è diventato masochista? Da ragazzo sono cresciuto anelando sopra ogni cosa, alla bellezza e alla verità. A persone che fossero superiori al comune, tanto forti da mantenersi eternamente all'elevato livello raggiunto. Mia madre era una di quelle persone, ma la santa donna apparteneva al passato. Quando io scrutavo il presente invece di persone superiori, scorgevo ipocriti, adoratori di falsi dèi, i vili vagabondi ebri, erranti tra i nauseanti miasmi delle loro finzioni, abidità, perfidi e egoismi, sono cresciuto nell'odio dello scintillio abbo-mercato di un tal mondo tutto fasto e orpello. Ma ho finito con l'accorgermi che dopo tutto esisteva anche un altro mondo, un mondo sincero e splendido, eppure terribile. Infatti, dato che questo mondo era infinitamente più piccolo e allo stesso tempo infinitamente più audace del primo, dal primo era odiato, temuto e perseguitato. Alludo al mondo i cui abitanti afferrano a piene mani la vita in tutte le sue possibilità e la sfruttano e ne gioiscono fieramente e persino crudelmente. Il mondo esterno li chiama malvagi e brutali, ma almeno loro sanno essere sinceri nelle loro passioni, riconoscono i propri istinti e si gloriano delle proprie temerarietà e delle proprie sopraffazioni. Loro vivono mentre le cosiddette persone virtuose vegetano. Donne, cavaliere, soprattutto donne. Restai affascinato da quest'oro e li amai, ancorché erano donne, rappresentano oggi i miei ideali, dato che quelli del passato sono perduti per sempre. Dalle sue memorie, che comunque sospettiamo piuttosto romanzate, sappiamo che la prima donna ad avere avuto influenza su di lei è stata la sua bambinaia. La bambinaia, già, la bambinaia... Si chiamava? Hansha! Bella, orgogliosa, analfabeta, anche. Ma che talento nel narrare ha emozionato la mia sensibilità infantile con cupe favole erotiche e eroiche. E la seconda donna della sua vita? Ma, se non sbagliamo, è stata sua zia? Oh, mia zia Zenobie, maestosa, fiera, senza freni, origine di ogni mio turbamento. Che modo? Quella volta... Che volta? Quella volta... Fu quella volta. Lo ricordo come fosse ieri, come fosse oggi. Aiutavo mia zia Zenobie a calzare gli scarpini ed improvviso mi è venuta una voglia, una tentazione irresistibile. E allora? Allora? Beh, le ho baciato lo scarpino. E sua zia? Si è messa a ridere e mi ha detto, piccolo diavolo. E subito dopo aver riso mi ha tirato un calcio in faccia. Sono ruzzolato per terra. Mi strofinavo la guancia colpita. È stato allora che ho scoperto... Cos'è che ha scoperto, cavaliere? Che non lo sa. No. Può essere più chiaro? Ho scoperto che il dolore poteva essere il piacere e che il piacere poteva aver bisogno del dolore. Per quello che mi riguarda sento che amare una donna significa averne paura. Io ho idee chiare a proposito di uomini e donne. La donna, tutt'oggi, quale la natura l'ha creata nei suoi rapporti con l'uomo, non può essere che sua schiava o sua tiranna, mai sua compagna. Potrà esserlo solo se godrà un giorno di diritti uguali a quelli dell'uomo, se potrà studiare e lavorare come l'uomo. Adesso non abbiamo come uomini altra scelta che essere martello o incudine. Una bambinaia e sua zia. La bambinaia e la zia, insomma, sono state le iniziatrici della sua immaginazione. Ma non sono stati il suo primo amore. Il suo primo grande amore risale ai 17 anni. Era un'attrice, no? Si chiamava Kolar. Era una donna tipicamente slava. aveva i nervi d'acciaio. Avrebbe potuto uccidere un uomo che avesse suscitato il suo odio e fare di chi l'amasse il proprio schiavo. Interpretava sempre parti di dominatrice, zarine e sultane e ne indossava le magnifiche pellicce ricamate d'oro. E è da allora che il desiderio del dolore si è unito in lei al gusto della recitazione. E da allora non ha sempre voluto che le sue donne interpretassero parti da dominatrice anche quando dominatrici non erano in partenza? Io non desidero venire maltrattato da qualcuno che mi voglia troppo bene, ma al contrario da una persona che mi ami troppo poco. Trovo torturanti le angosce della gelosia, eppure vado in estasi se una donna mi ingelosisce, mi inganna, si comporta vergognosamente nei miei confronti. La maggior parte delle donne preferisce che l'uomo sia loro superiore. Io invece, io invece anelo a una donna che mi sia superiore. So di essere spiritualmente superiore a ogni donna, so di essere spiritualmente superiore a ogni donna, ma voglio che la donna che amo mi domini. Di conseguenza il mio ideale di donna crudele è semplicemente lo strumento con cui mi delizio a torturare me stesso. Scusi un attimo, un attimo, Cavaliere. Se non erriamo, questo significa che lei non ha mai avvicinato durante tutta la sua vita una donna che fosse capace di assumere il ruolo di dominatrice, naturalmente, e tutte le donne di cui si parla ininterrottamente nelle sue opere. Crediamo che comunque nei suoi libri sia riuscito ad andare più avanti, a concretare il personaggio femminile meglio che nelle esperienze reali. Le sue esperienze reali sono abbastanza squallide. Nel romanzo, in venere in pelliccia, invece, soprattutto con il personaggio di Wanda... Wanda von... Dunayev. Wanda von Dunayev è stata un personaggio della realtà, non dell'immaginazione. Cavaliere Maso, ragioniamo. Dunque, Wanda von Dunayev fa la sua apparizione in venere in pelliccia, che sino a prova contraria è un romanzo. Quindi è un personaggio di romanzo, è un personaggio dell'immaginazione. Ma dietro questo personaggio di romanzo c'è una donna vera. Ci sono due donne vere che... D'accordo, d'accordo. Ci sono Anna von Kotowicz e Fanny Pistor, ma non è quasi possibile far paragoni. Anna aveva dieci anni più di lei e non era proprio nulla di speciale. Eppure lei è stato capace di mantenere per quattro anni rapporti con questa donna. Una donna di scarsa intelligenza e di scarsa personalità. Ed è stato proprio durante questi quattro anni che ha elaborato il suo bisogno di venire maltrattato. Un bisogno tanto sentito che con Fanny non ha voluto lasciare nulla al caso e all'improvvisazione. Non è stato con Fanny, certo non molto più degna di Anna, ma almeno più scaltra, che ha stipulato addirittura un contratto per venire maltrattato come piaceva a lei. Un contratto debitamente firmato, regolarissimo nella sua irregolarità. La data è 1869. Mi pare proprio l'anno precedente alla pubblicazione di Venere in Pelliccia. Il testo non lo ricordo esattamente, ma dice pressappoco Il cavaliere Leopold von Sacher Masoch si impegna sul suo onore con la signora Pisto a diventare suo schiavo e a obbedire incondizionatamente per mesi sei a ogni suo desiderio o comando. Da parte sua la signora Fanny Pisto si impegna a non esigere da lui azioni contrari all'onore, ovvero azioni che potrebbero intaccare il suo onore di cittadino e di uomo e di uomo. Gli concederà inoltre ore sei di libertà quotidiana a ciò che egli sia in grado di attendere al suo lavoro professionale e garantisce di non leggere la sua corrispondenza nei suoi scritti letterari. La padrona Fanny Pisto ha il diritto di punire il suo schiavo cavaliere Leopold von Sacher Masoch in tutte le maniere che riterrà più indicate per ogni suo sbaglio, negligenza o delitto di lesa maestà. In breve lo schiavo deve accordare alla sua padrona la più totale e servile obbedienza e accettare quale sua squisita condiscendenza ogni trattamento favorevole che la vorrà riservargli. Riconosce di non possedere il minimo diritto al di lei amore e rinuncia a qualsiasi diritto proprio. Dal canto suo Fanny Pisto gli garantisce che ogni volta che le sarà possibile indosserà pellicce in particolar modo quando dal suo stato d'animo si sentirà spinta a essere crudele. Il periodo di schiavitù avrà termine allo scadere di mesi sei dalla firma di questo contratto e all'ospirare di tale termine nessuna allusione al suddetto periodo di schiavitù potrà essere tollerata. Quanto sarà potuto accadere dovrà essere obbligato. Si tornerà dunque alle precedenti relazioni amorose. I mesi sei di durata non dovranno essere necessariamente continuativi ma potranno essere interrotti per periodi anche prolungati per cui la padrona stabilirà inizio e fine. Le firme contraenti sanciscono qui sotto questo contratto e presso a poco lo stesso contratto che un anno dopo in Venere in Pelliccia stipulano e firmano i due principali personaggi del romanzo Severin e Banda. Cos'è venuta prima allora la realtà o l'immaginazione? Ma forse ha ragione lei a ogni modo non ci pare che Severin tragga un gran conforto da un contratto del genere nel romanzo. Severin si trova in una situazione veramente pietosa. E lei? Io. Lei? Sì proprio lei. In amore le ripeto vi è sempre il martello e l'incudine. E lei ha sempre voluto fare da incudine anche quando faceva da martello soprattutto con la sua prima moglie con la donna che ha sposato perché si è rivolta a lei si è rivolta a lei firmandosi come l'eroina di Venere in pelliccia Wanda von Duneyer con lettere anche troppo esplicite sul tipo lettere sul tipo citiamo la bella e meglio mio schiavo le condizioni Mio schiavo le condizioni alle quali ti accetto sono che tu rinuncia assolutamente alla tua personalità non abbia altra individualità all'infuori della mia sia nelle mie mani sia nelle mie mani come un cieco strumento capace di eseguire i miei ordini senza discutere e se mai dimenticherai di essere mio schiavo e non mi obbedirai in tutto nulla escluso avrò il diritto di punirti nel modo che più mi piacerà senza che tu possa minimamente lamentarti eccetera eccetera cavaliere era una lettera che prometteva bene ma la Wanda Fonduna in carne e ossa doveva riservare le grosse delusioni tutto sommato abbiamo ragione anche noi in questo caso è stata la realtà a venire dopo l'immaginazione e a mostrarsi abbastanza inferiore con che sconforto le è toccato scoprire che l'unica cosa che avesse in comune con sua moglie era l'amore per i figli per i frutti regolari del suo matrimonio è vero che poi alla fine insistendo e minacciando il divorzio lei è riuscito a essere non solo punito frustato ma anche tradito ingannato ma è stata una bella fatica e poi quando sua moglie ha dimostrato di essere abbastanza cattiva lei se ne è disgustato ha cercato svago altrove mi rimprovera le mie fantasie ma non mi sarei neppure sognato di pensarci se mia moglie stessa non le avesse risvegliate e incoraggiate per i suoi egoistici scopi erano trascorse solo poche settimane dal giorno del nostro matrimonio e già diceva di non amarmi di non essere più capace di amare dopo essere stata tradita da non so chi di essere infelice se mi avesse amato non avrebbe desiderato che essere felice la sua indifferenza la sua ingratitudine ecco le vere fonti delle mie fantasie e nessuno mi può rinfacciare capisce nessuno perché hanno danneggiato solo me cavaliere cavaliere perché si rinnega e tutti i discorsi che abbiamo fatto sino ad ora no non si lasci distrare da rancore per la sua prima moglie era una donna volgare e non ci ha messo subito buona volontà ma quando ce l'ha messa allora lei è attaccata a lamentarsi perché sua moglie non l'amava perché sua moglie non desiderava che lei fosse felice ma il succo del masochismo l'ha appena detto non consisteva per lei nel venire maltrattato non da qualcuno che le volesse troppo bene ma al contrario proprio da una persona che l'amasse troppo poco ammetta sono contraddizioni cavaliere le contraddizioni le contraddizioni le contraddizioni cosa ne vuole sapere lei delle contraddizioni lei crede alla coerenza la coerenza è una falsa virtù dei mediocri beh lasciamo perdere il masochismo almeno per qualche attimo cavaliere lei non è solo un malato lei è uno scrittore non è solo uno scrittore di fantasie erotiche lei è un promotore di istituzioni sociali e culturali lei è un intellettuale onesto e coraggioso ci piacerebbe parlare anche di questo aspetto della sua personalità una personalità sconcertante so di contare molti nemici specialmente in Germania dove mi staccia di francofilo e di filo semita ma questo non mi preoccupa minimamente ho conosciuto gli ebrei laddove si vivono nelle peggiori condizioni in Galizia li ho visti rendere servigi alla società o la massima diligenza e tuttavia continuare a venire perseguitati dai loro padroni slavi semplicemente ed esclusivamente perché erano ebrei sono restato profondamente commosso per la sono restato profondamente commosso sono restato profondamente commosso per la sostanza con cui questo popolo indifeso si conserva fedele ai costumi alla morale degli antenati quando sono riuscito ad assicurarmi una certa posizione una certa influenza nel mondo le ho sfruttate tutte e due mettendo in opera la mia abilità per curare gli interessi dei deboli il ricco il potente non mi hanno mai interessato e ho considerato il mio dovere è prendere sempre le parti dei poveri e degli oppressi quando mi trovo davanti a una creatura umana provata dalla sventura non comincio mai con il domandarle lei è ebreo o ariano nobili parole ma cos'è cos'è questo cos'è che sta facendo a quel gatto cavaliere è orribile il gatto di chi è il sangue il sangue il sangue di chi è è suo lei ha strangolato il gatto ma è inammissibile lei ride ma perché l'ho ucciso l'ho ucciso ecco l'ho ucciso uccidere e distruggere quanto si ama un delizia inaudita è come se uno uccidesse se stesso stritolare strappare soffocare annientare l'opera di un altro imporre il sigillo definitivo della morte e dell'annichilimento là dove era accesa la scintilla della vita questo si questo si chiama prendersi una vendetta che nessuno può rifiutarsi di comprendere ci scusi stritolare strappare soffocare ma lei è proprio sicuro di essere il cavaliere maso e non il marchese de Sade stritolare strappare soffocare struncare stracciare stracciare delizia delizia lei è matto matto io matto non ardire più di darmi del matto non pronunciare più quella parola uccido anche te d'accordo cavaliere si calmi si calmi non è matto non è matto matto lei via via neppure pensarci comunque meglio togliere il disturbo grazie mille per l'intervista cavaliere e addio no non ci preoccupi ci siamo già alla porta addio addio per sempre addio ma cos'è che fa cos'è piange adesso mi mangiano vivo mi mangiano vivo i gatti i gatti mi perseguitano gatti i gatti i gattacci mi mangiano vivo vivo mi mangiano i gattacci mi mangiano vivo sì il cavaliere leopold von zacher masoch si è spento nel 1905 nel manicomio di manheim abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di oreste del buono con il cavaliere leopold von zacher masoch masoch era Carmelo Bene regia di Vittorio Sermonti